Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di Caltanissetta ha avviato il progetto a scuola di archeologia Conosciamo e tuteliamo il patrimonio culturale della Sicilia Centrale. Iniziato lo scorso 25 ottobre si svolgerà nel corso dell'intero anno scolastico portando l'archeologia a scuola e già lo scorso anno lo stesso progetto ha suscitato grande interesse da parte degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato. Il progetto nasce in collaborazione con la sede Nissena di Sicilia Antica presieduta da Stefania D'Angelo con il parco archeologico di Gela diretto da Luigi Maria Gattuso con il parco archeologico di Morgantina e della villa del casale di Piazza Armerina diretto da Livorio Calascibetta con il comitato di quartiere Gibil Habib presieduto da Salvatore Pecoraro con il nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Palermo grazie alla disponibilità del comandante il maggiore Gianluigi Marmora. Sarà attraverso un percorso attivo e stimolante che gli studenti apprenderanno usi e costumi, storia del passato. I soggetti coinvolti sono i nostri allunni di quarta e quinta primaria più gli allunni del primo e secondo anno del secondario di primo grado. Sì abbiamo pensato con questo progetto di mettere proprio in primo piano l'archeologia e grazie a questo progetto la volontà nostra è quella proprio di far riscoprire il valore dei resti che abbiamo soprattutto nella nostra zona, la Sicilia Centrale e quindi da questo poter vedere le testimonianze che ci vengono dei popoli del passato che hanno abitato e quindi considerarli sia un valore di per sé archeologico da tutelare e da valorizzare sia anche come sviluppo successivo a memoria delle future generazioni ma anche da poter sfruttare per quello che è il momento attuale, quello che potrà essere poi lo sviluppo successivo. E come direbbe Flaminia, Cruciani, lezioni di immortalità, se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che qualche frammento cada il lavoro dell'archeologo è scuotere la terra senza imbarazzo del cosmo aspettando che qualche frammento di cielo appaia. Questo è un progetto di educazione al patrimonio culturale quindi i ragazzi faranno inizialmente le lezioni frontali in cui impareranno cosa è l'archeologia, qual è la professione dell'archeologo e poi ovviamente in primavera faranno delle attività, quindi andranno a fare delle visite guidate al museo archeologico di Caltanissetta in cui faranno una sorta di caccia al vaso perché faremo disegnare anche la ceramica durante le lezioni che terremo e poi faranno un'attività di survey, cioè di ricognizione sul terreno nel sito archeologico di Gibilgavib.